Rolandi, si parla di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale alla luce di importanti scadenze. Sì, le novità normative introdotte per le società partecipate per i servizi pubblici locali impone a tutte le regioni una scelta rispetto all'affidamento dei servizi tramite gara, operazione che va fatta entro il 31 dicembre di quest'anno, oppure di optare verso l'affidamento in ausa ad una propria società. In questo secondo caso l'operazione va fatta entro il 30 settembre. Sia nell'uno che nell'altro caso il fatto di non rispettare queste importanti scadenze determina delle penalizzazioni in termini di risorse per ogni regione inadempiente. Quindi il primo obiettivo da cogliere è quello di evitare queste penalizzazioni e quindi di procedere alla riforma nei tempi stabiliti dalla legge. Voi siete preoccupati però in generale per il futuro dell'azienda regionale di trasporto? Sì, siamo preoccupati perché dopo aver fatto tanto per dare origine all'aggregazione delle tre società, aver dato origine alla nascita di Tua, adesso la regione ci propone unitamente all'affidamento in ausa anche la predisposizione di uno spezzatino. Quindi fondamentalmente a due anni dalla nascita di Tua si vuole separare i servizi commerciali dalle attività di trasporto pubblico locale, affidando questi servizi commerciali ad una società che invece andava chiusa, ovvero Sangritana S.p.A. Quindi a questo punto quali sono le vostre proposte? Noi abbiamo già espresso la nostra netta contrarietà sia in occasione delle commissioni consigliari regionali, quindi sia davanti all'opposizione che davanti a chi governa questa regione. Lo abbiamo ribadito davanti al consigliere delegato D'Alessandro, noi ribadiamo che siamo assolutamente favorevoli all'affidamento in ausa dei servizi alla società regionale dei trasporti, ma vorremmo che ci fosse una maggiore razionalizzazione, quindi includere nell'azienda unica anche altre società partecipate, quale ad esempio Lama, che è la municipalizzata dell'Aquila, la Cerella di Vasto e la società Sistema, che si occupa della vendita e distribuzione dei titoli di viaggio.